Al Salone del Risparmio di Milano abbiamo raggiunto Davide Serra, l'uomo d'affari italo-londinese, titolare del Fondo Algebris, grande amico e finanziatore del Premier Matteo Renzi. Serra, come sta? Buon accorso in la sette e la gabbia, quanto tempo? Ma le domande che gli abbiamo posto l'hanno fatto innervosire. Secondo me deve aver avuto degli scompensi, faccio il giornalista, però sai come lo fai? In maniera molto, come si dice, twisted. Twisted è quando sei non particolarmente lineare, leggermente di parte vizioso. Tu si vede che non investi chiaramente a fare un altro mestiere. Non ho il denaro per farlo. Cosa, una pirlata che dici tu? Cosa, con te non parlo perché sei fazioso. L'educazione non te l'hanno insegnata e io non ti rispondo. Ma non mi sfinga, sei maleducato. Probabilmente Davide Serra si è indispettito perché non gradiva alle nostre domande. Col suo fondo Algebris, Serra ha infatti deciso di investire 400 milioni di euro sui crediti in sofferenza, detti in gergo finanziario non performing loans. Di che si tratta? Per capirlo facciamo un esempio. Una banca ha concesso un mutuo di 100.000 euro a un lavoratore che ha perso il posto e non riesce più a pagare le rate. La banca allora vende il suo credito a un fondo speculativo proprio come quello di Serra e incassa subito 30.000 euro. Il fondo a quel punto per recuperare il credito può mettere all'asta la casa ad esempio a 50.000 euro e intascare la differenza, 20.000 euro. Col suo fondo Serra si attende di guadagnare ben 80 milioni di euro l'anno. Mi dice come sta andando il fondo sui non performing loans? Sono crediti in sofferenza, quindi gente che non riesce a pagare il mutuo. No, l'opposto. Stiamo guardando un hotel a Roma. Non ci prende in giro, sono immobili, sono crediti residenziali, sono mutui. No, scusa. Allora, se tu mi vuoi prendere in giro, io ti sto rispondendo quello che facciamo. Non puoi dirmi che sono soltanto alberghi e case a Portosino? Quindi esclude di investire su mutui. Noi non faremo solo. Se lei prende il pacchetto da una banca e dentro ci sono mutui di persone, sono crediti in sofferenza, la gente non riesce a pagare. No, residenziale normale non c'è. Tante vere, quindi residenziale è residenziale di alta gamma, voglio dire, case che valgono più di un milione di euro. Davide Serra ci dice di non voler speculare sugli italiani in difficoltà col mutuo della propria casa, ma solo su beni di lusso. Ma gli esperti lo smentiscono. Lascia molto perplesso questa affermazione di Davide Serra quando sostiene di fare una sorta di, quello che si chiama in gergo, scelta delle ciliegie. Si vendono in blocco? Eh sì, sostanzialmente sì. Difficile che un operatore bussi a una porta della banca e dici io voglio quel credito e quel credito. La banca tende a costruire i pacchetti di crediti malati e vende l'intero pacchetto. Ci sono prestiti alle imprese? Ci sono ovviamente i mutui, c'è il credito al consumo. Chi comprava la macchina rata, chi comprava la televisura rata. A quel punto chi acquista il pacchetto prova a recuperare il credito. Chi acquista il pacchetto va a recuperare il credito e i guadagni sono suoi. Il problema qual è? Nei fatti fa il recupero credito. Fa il recupero credito, esattamente. Fa il recupero credito. E sono sempre di più gli italiani che a causa della crisi non riescono a ripagare i loro debiti. Di storie come questa la gabbia ne raccontate tante. Tu hai lavorato una vita come ho fatto io e poi per quattro razzi di muto ti mettono all'asta una casa che vale un milione, che va venduta a 200 mila euro, 150 mila euro. Tutto mi mettono all'asta. Tutto. Ne hanno pignorato tutto, la casa, la casa, la macchina, la macchina. Per 7400 euro la casa è andata all'asta. Abbiamo chiesto la sospensione di un anno come prevedeva la legge Tremonti, ma c'è stata immediatamente negata, non è stata neanche presa in considerazione. Dopodiché ci viene recapitata a casa una lettera dove appunto c'è scritto che la nostra casa è stata iscritta alle asse giudiziarie. Sono loro le vere vittime della finanza, colpite prima dalla crisi e poi da chi specula sulla crisi. Questo meccanismo pompa la finanza speculativa. C'è un po' di ingordigio da parte dei compratori, perché io sono stato a un seminario l'anno scorso pieno di operatori anglosassoni, l'operatore anglosassoni faceva capire, comprava 10 per recuperare 20, ma se tu recuperi 20 fai un 100% di guadagno. E si è un po' eccessivo con i tempi che corrono. Davide Serra ha recentemente annunciato di voler acquistare anche i crediti deteriorati della Banca Popolare dell'Etruria, il cui vicepresidente fino a gennaio era Pierluigi Boschi, il padre del ministro Maria Elena Boschi. Siamo investiti, l'abbiamo già detto, siamo investiti... Nella Popolare dell'Etruria? Di Boschi. No, scusa, con te non parlo perché sei fazioso. La banca oggi è sull'orlo del fallimento e Serra annuncia di volerla salvare. È una delle banche messe peggio in questo paese. Quindi sto rispondendo, è un minimo di educazione. Però banche popolari, banca dell'Etruria. L'educazione non te l'hanno insegnata, e lei non ti risponde. Ma non mi spinga, sei maleducato.